L'associazione Vittime del Salvabanche sarà ricevuta in udienza privata da Papa Francesco. La conferma arriva direttamente dal Vaticano. I risparmiatori azzerati incontreranno il Pontefice nel mese di maggio. Sarà presente all'udienza anche la moglie di Luigino D'Angelo, il pensionato di Civitavecchia, che si è suicidato dopo aver perso tutti i suoi risparmi in conseguenza al decreto Salvabanche del 22 novembre scorso. La notizia dell'incontro con il Santo Padre è stata appresa con grande commozione e partecipazione da tutti i risparmiatori dell'associazione. Intanto, dopo mesi di attesa, la Commissione europea avrebbe raggiunto un accordo con l'Italia sulla questione dei rimborsi a favore dei bondisti subordinati azzerati di Banca Etruria, Cari Ferrara, Carichietti e Banca Marche. Lo ha annunciato la commissaria responsabile della concorrenza. Abbiamo raggiunto un accordo con il governo italiano sulla questione delle quattro banche, ha detto in risposta a una domanda durante una conferenza stampa.